Cantieri d'alta quota racconta il mondo dei rifugi. Rifugi alpini e bivacchi sono dei punti d'appoggio attrezzati per chi frequenta la montagna e rappresentano e incarnano valori interessanti e importanti. Simbolici perché sono dei presidi in punti estremi in alta quota difficilmente raggiungibili ai più. Storici e geografici perché riportano le vicende dei confini, delle persone che li hanno attraversati e raggiunti e soprattutto della storia dell'alpinismo e dei presidi in zone estreme. Sociali perché riuniscono attorno ai rifugi e nei rifugi le storie e le relazioni dei committenti, dei rifugisti, degli alpinisti e degli escursionisti che li visitano. E dal punto di vista edilizio perché raccontano il rapporto tra l'uomo e la montagna e come sono cambiate le tecniche, i materiali con cui sono stati costruiti nel tempo. Oggi ci concentriamo per raccontare in una rapida carrellata e visita a quelli che sono alcuni rifugi alpini importanti nel Piemonte. Dobbiamo cominciare dal rifugio dell'Alpetto ai piedi del Monviso, costruito nel 1866, pochi anni dopo la costituzione del CAI e che è ancora restaurato, è un museo di se stesso visitabile ancora oggi. Dobbiamo citare ad esempio il Quintino Sella al Monviso, costruito nel 1905 come rifugio albergo su tre piani con addirittura le camere separate dai dormitori. O il rifugio Bartolomeo Gastaldi in Valdalla di Lanzo, costruito anch'esso come rifugio albergo, è importante perché è distrutto dai tedeschi durante la guerra partigiana perché era un luogo importante per queste vicende. Dal punto di vista architettonico i rifugi sono anche dei luoghi di sperimentazione. Il rifugio Garelli in Valle Pese al Margarei si riprende con la forma della capanna ripetuta nella dimensione del tetto e anche le punte della conca che lo avvolgono. Il Vallanta al Monviso in Valle Varaita, orientato verso la punta della montagna, con la caratteristica pendenza del tetto, richiama i pendii della montagna. Anche i bivacchi sono delle esperienze interessanti. Lo sapevate ad esempio che il primo i bivacchi industriali in Italia sono stati costruiti a Torino? 1925, l'officina dei fratelli Ravelli, su commissione del club alpino accademico italiano, bivacchi a semibotte prefabbricati che vengono diffusi ovunque. Il bivacco Boarelli al Monviso è dedicato alla prima donna che nel 1864 ha scalato il Monviso. Un mix intrigante di tecnologie e di artigianato, ad esempio alle Grange Horace e il bivacco Gervasutti, realizzato dallo studio Leap Factory di Torino e all'officina di Borgaro Torinese. Cantieri d'Alta Quota racconta il mondo dei rifugi. Cantieri d'Alta Quota è un'associazione nata sull'onda di un libro pubblicato nel 2012 e tradotto anche in edizione francese e tedesca dal club alpino svizzero. Cantieri d'Alta Quota è un'associazione di volontari che riunisce alpinisti, progettisti, rifugisti e che si propone come network e piattaforma di interscambio sul mondo della montagna. L'obiettivo è quello di raccogliere e divulgare informazioni storiche, economiche, edilizie, progettuali, geografiche sul mondo dei rifugi e dei bivacchi di tutto l'arco alpino. Su www.cantieridaltacuota.eu c'è il censimento di tutti i rifugi delle Alpi in corso ad opera di vari volontari e Cantieri d'Alta Quota ha anche realizzato un tour di una mostra itinerante in Italia e all'estero che racconta la storia dei rifugi e dei bivacchi attraverso pannelli con immagini e disegni anche inediti per portare il mondo dei rifugi e dei bivacchi non solo agli appassionati ma anche di coloro che sono curiosi di scoprire come si vive in Alta Quota. Il Falchi di Daffi Onlus è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro. Nata nel 2007 ha come fini sociali la protezione dell'ambiente, la difesa del territorio, la promozione dell'attività di volo con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Essa si avvale dell'impegno di piloti volontari tra cui anche istruttori di volo che mettono a disposizione competenze e tempo libero a titolo completamente gratuito per fornire alla comunità un servizio di elevata professionalità. I Falchi hanno in corso una convenzione con la regione Piemonte che prevede la possibilità di effettuare i voli di sorveglianza del territorio, prevenzione incendi, ricognizione a seguito di calamità naturali e tutela dell'ambiente. Oltre al capitale umano di oltre 30 volontari, l'associazione dispone di un velivolo CESNA 172 a 4 posti e di un turisti a 7 posti per l'appoggio a terra alle operazioni aeree. Inoltre, a seguito di accordi e convenzioni stipulate con altre associazioni, scuole di volo, ha a disposizione un parco di aerei ed elicotteri da 2 sino a 10 posti, con un numero di piloti sufficienti a garantire ogni tipo di intervento H24. L'attività di protezione civile non è l'unità prevista dallo Statuto. L'associazione, in collaborazione con altre organizzazioni, promuove il volo per i bambini con gravi patologie, disabilità, disagi familiari o personali, organizzando le giornate piccoli aviatori. L'intento comune di tutti è quello di progettare e realizzare attività di svago ludico ricreative, nella quale i bambini e le loro famiglie possano ricevere aiuto nella difficile e dolorosa lotta quotidiana con le difficoltà, con le cure, spesso invasive, a cui i bimbi sono sottoposti. Durante la manifestazione i bambini e le loro famiglie hanno la possibilità di volare gratuitamente e di sottoporsi a quella che ormai è definita la terapia del volo, provare una grande emozione come solo il volo sa dare, lasciare a terra i problemi e le difficoltà per vivere un'esperienza unica nel suo genere. La nostra associazione, Piccoli Aviatori dei Falchi di Daffi, è responsabile di tutte le attività a terra. Siamo un gruppo di circa 20 volontari, di età molto diverse e seguiamo i bimbi e le loro famiglie dall'accoglienza sino al termine della manifestazione. Trucca bimbi, maghi, pet terapi e laboratori si alternano durante tutta la giornata, offrendo ai bambini e alle loro famiglie momenti sereni e allegri, lontani dalla routine dell'ospedale o della casa famiglia. Tante persone hanno volato con noi, ma siamo pronti ad accogliere nuove famiglie e associazioni interessate. Il Lions Club è un'associazione che esiste da un secolo ed è la più numerosa del mondo. Il nostro scopo è di aiutare chi ha bisogno e stare vicini alla gente. Piccoli Aviatori è possibile grazie ai Lions Club piemontesi che hanno aiutato con sponsorizzazioni, donazioni e partecipazione personale. Durante ogni giornata di volo più di 100 volontari si impegnano e gestiscono oltre 500 persone. Sino ad oggi più di 800 bambini hanno volato, partecipato alle diverse attività, pranzato gratuitamente e ricevuto il diploma di piccolo avviatore. Abbiamo tanti bambini in lista di attesa che troverebbero aggiornamento dalla partecipazione a un'esperienza unica come quella del volo e di una giornata all'insegna dello svago e della gioia. Attendiamo il vostro aiuto con donazioni oppure devolvendo il 5x1000 ai falchi di Daffi Onlus oppure anche diventando volontario come ha già fatto il meteorologo Luca Mercalli che ha creduto in noi diventando testimonial della nostra iniziativa. Per seguire le nostre attività ci potete trovare su www.lions.torinoeuropa.it. Grazie. Insieme si può volare sempre più in alto. Faccio parte del telefono amico. Molte cose non vengono dette soltanto perché nessuno le ascolta. È una frase di una banalità disarmante nella sua semplicità. Eppure faccio veramente fatica a non pensare che è più importante parlare che ascoltare. Ma se ci pensa un attimo se non c'è nessuno che ci ascolta noi non parliamo. Io stesso in questo momento sto parlando perché ho la fiducia che qualcuno mi stia ascoltando altrimenti non parlerei. Eppure quante volte mi è capitato di andare a casa di qualcuno perché era successo un lutto, una situazione di difficoltà e la mia preoccupazione è Dio mio cosa gli dico? Non so cosa dirgli. Farò brutta figura. Caspita, chi sta male è l'altro ed io mi preoccupo di far brutta figura. È una distorsione della nostra cultura, della mia cultura personale, di pensare che quello che ho da dire io è più importante di quello che hanno da dire gli altri. Questo porta a delle conseguenze spaventose, drammatiche. Quante volte abbiamo sentito dire si è suicidato e non ci aveva detto niente. Chissà quante cose aveva da dire ma semplicemente nessuno lo ascoltava. Io ci sono è la frase che vorrei sempre sentirmi dire nel momento di ho bisogno, quando ho bisogno di un amico. L'amico c'è, l'amico c'è sempre in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento. È una persona che cammina al mio fianco e cammina con me anche se zoppico. È una persona che mi dà sicurezza nei momenti del bisogno. È una persona con cui posso fidarmi, è una persona con cui posso esprimere tutte le mie emozioni, dalla gioia, il dolore, la tristezza. È una persona con cui posso liberare anche tutti i miei lati più deboli, le mie debolezze, le mie fragilità. Non mi vergogno di quello che succede perché so che lui è con me e non mi giudica soprattutto. Se penso alla mia vita penso a una persona che ho chiamato per prima. L'amico è la persona che ho chiamato per prima quando stava per morire mio padre e la persona che ho chiamato quando sono nate le mie figlie. Quindi per me l'amico è la persona che c'è sempre, soprattutto perché è una persona che ho scelto e non è una persona competente. E soprattutto non mi giudica e non cerca di risolvere quelli che sono i problemi, ma sta con me e con le mie emozioni mentre le vivo. Immaginate di avere vissuto appena adesso un momento intenso della vostra vita, un momento importante, triste o felice, un momento comunque intenso che vi ha emozionato molto. Magari avete appena litigato con il vostro capo e siete tremendamente arrabbiati e la prima cosa che a me verrebbe da fare sarebbe quella di cercare qualcuno con cui condividere questa rabbia, per scaricarmi, per raccontarlo. Quel qualcuno tendenzialmente è un amico che magari è lì in quel momento o magari posso cercare al telefono, ma ci sono momenti della vita in cui queste persone, l'amico non è disponibile perché non c'è o perché è un periodo in cui non è al mio fianco. E allora il telefono amico fa questo, il telefono amico c'è, è una persona che dall'altra parte del telefono o della mail o della chat mi risponde in ogni momento di ogni giorno, 24 ore su 24 tutto l'anno, è lì perché io possa parlare con qualcuno proprio nel momento in cui la mia emozione è così intensa da non poterla contenere. E allora per fare questo, essendo molte le persone che ci chiamano, abbiamo bisogno di molti volontari e questi volontari potreste essere voi che in questo momento state ascoltando o qualcuno che voi conoscete che non ha mai pensato di fare volontario al telefono amico. Buongiorno, sono Bruno Mellano, sono il garante dei detenuti della Regione Piemonte. Sono qui ospite dell'Associazione Internazionale Nessuno Tocchi Caino che da anni, da oltre 20 anni, lotta contro la pena di morte nel mondo. Perché il garante dei detenuti a nome di Nessuno Tocchi Caino? Perché in carcere molti sono i caino, considerati dall'opinione pubblica persone che hanno sbagliato, considerate dalla giustizia persone che hanno sbagliato, condannate in carcere. La campagna di quest'anno e del prossimo anno dell'Associazione Internazionale Nessuno Tocchi Caino unisce la lotta alla pena di morte nel mondo, alla lotta contro la pena fino alla morte, l'ergastolo stativo, l'ergastolo del fine pena mai. Una campagna internazionale che è partita oltre 20 anni fa e che ha avuto grandi successi a livello internazionale all'Assemblea Generale dell'ONU con la moratoria dell'esecuzione della pena di morte nel mondo si arricchisce adesso di una lotta dai paesi occidentali, dai paesi liberali per una pena, una pena detentiva che non sia volta alla morte del condannato ma sia volta al recupero e al reinserimento sociale. Nessuno Tocchi Caino ha avuto l'autorizzazione di fare il proprio congresso annuale dentro un carcere, dentro il carcere di Opera a Milano con la presenza delle massime autorità del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria italiana e sarà a dicembre appunto a Milano ponendo il problema di una pena che sia recupero e reinserimento. Non possiamo solo accontentarci di aver ridotto significativamente le esecuzioni, le condanna morte nel mondo, nel 2006 erano oltre 10.000 in tutto il mondo con un buco nero della Cina che era addirittura un dato non misurato e non misurabile, a circa 5.000 nel 2014 con la Cina ridotta a 2.400 condanne a morte. Ma il percorso della lotta per il diritto umano a non essere ucciso in forza di una legge è un diritto umano che è sensibile ai detenuti in tutto il mondo. Noi sappiamo di una forte presenza di detenuti per esempio negli Stati Uniti, sappiamo di una forte presenza di detenuti in tutti i paesi europei, occorre lottare e lo faccio anche con l'ufficio regionale del garante dei detenuti per una pena che sia umana, che sia di recupero e di reinserimento, altrimenti non abbiamo le carte in regola per andare a insegnare ai paesi non democratici e non liberali che non devono procedere alle esecuzioni, non devono procedere alla sommaria esecuzione di condanne capitali o a fine pena mai. In Italia sono 1.600 gli ergastolani, di questi 1.600 1.200 circa sono in una condizione legata a reati ostativi dove non è previsto nessun reinserimento, nessun recupero, nessuna possibilità di uscita e questo contraddice la Costituzione, contraddice l'articolo 27 della Costituzione ed è una campagna su cui anche le organizzazioni internazionali, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, l'ONU ci richiamano e ci vincolano un rispetto puntuale della nostra normativa e dei principi delle convenzioni internazionali che abbiamo continuato a sottoscrivere in questi anni. La campagna sulla moratoria per la sospensione delle esecuzioni è stata una campagna molto produttiva e innovativa che nessuno tocchicaino ha lanciato nel mondo. Siamo passati dalla maggior parte dei paesi che erano manutentori e esecutori di pena di morte alla gran parte dei paesi che non ha più nel proprio ordinamento la possibilità di ricorrere alla pena di morte. 161 sono i paesi che hanno abrogato o sospeso le esecuzioni e solo 37 tuttora conservano la pena di morte e la eseguono. Allora è un percorso che si può fare e che quindi si deve fare nel solco dei nostri principi costituzionali, delle dichiarazioni che abbiamo sottoscritto a livello internazionale per una pena che sia di recupero e di inserimento. Quindi non una condanna a morte ma neanche una condanna all'ergassolo stativo, neanche una condanna a pene dichiarate inumane e degradanti. Su questo stiamo stati condannati, su questo lottiamo tutti i giorni proprio per ottenere l'esecuzione di una pena umana. Buongiorno a tutti, sono Giovanna, la responsabile dell'Associazione Bastardini, nata nel 2004 da un gruppo di volontari. Gestiamo appunto già da 11 anni un piccolo rifugio, il BAU in via Casellette 71 ad Alpignano dove ospitiamo dai 50 ai 60 cagnolini che hanno bisogno di un aiuto per poter trovare una famiglia. Sono cagnolini che provengono dalle famiglie o da canili sovraffollati, non socializzati o con handicap. Noi ci concentriamo più che altro sui cani anziani perché sempre più famiglie abbandonano i cani quando hanno già sui 7-8 anni per varie ragioni. Comunque abbiamo delle buone adozioni e su questo ci può dire qualcosa Zahira? Sì, in realtà tutti gli anni abbiamo delle splendide adozioni, l'anno scorso ne abbiamo fatte 180 circa, quindi un po' lo scopo di questa trasmissione, l'obiettivo che vorremmo raggiungere è quello di avere sempre più pubblico che ci viene a trovare e poi a noi il compito di scegliere per questi cagnolini le famiglie migliori, quindi affinché abbiano un'altra possibilità, vivano un'altra loro vita insieme a una famiglia diversa dalla precedente senza troppi traumi. È molto difficile conciliare le cose però insomma ci diamo molto da fare, quindi pubblicizziamo i nostri cani, abbiamo le nostre pagine Facebook, il sito, cerchiamo di trovare per loro una famiglia per fare proprio sì che stiano poco in gabbia perché la gabbia non piace ai cani. Altri argomenti li trattera Rita, così di informazione. Ok, allora l'associazione si occupa anche della sterilizzazione sia dei cani maschi che delle femmine perché ovviamente sterilizzarli significa non avere cucciolate indesiderate e ovviamente altri cani da ricollocare. Oltre alla sterilizzazione si occupa l'associazione anche della rieducazione dell'educazione dei cani. Come si diceva prima spesso i cani arrivano non educati, non abituati al guinzaglio, alla passeggiata con l'umano, non socializzati né nei confronti degli umani né nei confronti di altri animali, molto spesso per storie individuali e personali che li hanno resi così oppure per caratterialità che sono loro proprie. Quindi grazie all'apporto dei volontari e grazie all'aiuto di educatori cinofili i cani vengono portati in passeggiata e vengono progressivamente rieducati in modo tale da renderli adottabili, quindi dare loro l'opportunità di trovare un'altra famiglia e di ricominciare fuori dal canile una nuova vita. Siamo una cinquantina di volontari e noi ci diamo da fare su questo. Bisogna sempre ricordare che la famiglia deve essere sempre appunto seguita e prima di prendersi dall'entusiasmo bisognerebbe sempre farsi una domanda cosa posso dare io a lui e non lui a noi. Prima questo e poi pensandoci bene allora andare in un canile e cercare il cane giusto. Come ho detto all'inizio noi ci occupiamo moltissimo dei cani anziani ed è per questo che abbiamo voluto quest'anno il Calenbau 2016 e dedicato a loro perché vorremmo che almeno gli ultimi anni della loro vita possano passarlo serenamente in una famiglia coccolati. Noi siamo comunque ad Alpignano in via Casellette 71 il nostro canile è aperto tutti i pomeriggi perciò potete venire a trovarci oppure andate sul nostro sito www.bastardini.it e venite ad acquistare il nostro Calenbau 2016 perché come ho già detto all'inizio noi siamo un canile privato non abbiamo convenzione abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Al prossimo episodio